Con la gazzetta ufficiale del 3 ottobre è stato approvato da AIFA Inclisiran, un nuovo farmaco per ridurre i livelli di colesterolo, l'EDL e il colesterolo cattivo, farmaco innovativo indicato per gli adulti con ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista. Ne parliamo con il dottor Valentino Confalone, amministratore delegato di Novartis Italia. Dottore, cosa rappresenta questo farmaco? Perché è importante? Inclisiran è frutto di una ricerca Novartis utilizzando una nuova piattaforma tecnologica, quella dei piccoli RNA interferenti, una piattaforma innovativa che consente di intervenire a monte della patologia, quindi inibendo lo sviluppo delle proteine che sono causa dell'ipercolesterolemia e in questo modo consentendo anche di mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo, come vengono definiti, nel lungo termine in maniera stabile. E' importante perché è una delle piattaforme su cui Novartis sta investendo, sia in area cardiovascolare, che ricordiamo è la principale causa di decessi nel nostro paese, ma anche in altre aree terapeutiche. E non è la unica piattaforma tecnologica, ci sono altre, in altre aree come quelle dell'oncologia, abbiamo i radioligandi, abbiamo le terapie igieniche, abbiamo le terapie CAR-T, che sono tutte frutto di ricerca in aree di innovazione tecnologica. Senta, quanto è stato studiato anche nel nostro paese? Gli studi su Inclisiran in Italia hanno coinvolto più di 50 centri, sin dal fine 2020, inizio 2021, stiamo studiando il farmaco nella prevenzione secondaria in questo momento, appunto con un forte coinvolgimento dei centri di ricerca italiani. Cosa ha fatto Novartis anche per rendere l'accesso a questo farmaco possibile ai pazienti che ne hanno bisogno e quindi accordi anche con le regioni? Allora, la cosa più bella del progetto con Inclisiran è proprio che stiamo lavorando insieme alle istituzioni su modelli alternativi di accesso. Sono recentissime le notizie di accordi firmati con la regione Friuli Venezia Giulia, con il Lazio, con la Sardegna e la Toscana, una serie di accordi che hanno come finalità quella di studiare modi per ottimizzare il percorso di cura del paziente, partendo dal momento della prevenzione. E con questo modo vogliamo assicurare un accesso sempre più ampio e sostenibile ai farmaci che consentono in maniera efficace di gestire patologie così importanti, croniche come quelle cardiovascolari. Grazie a tutti.